Papa Francesco ha visitato il presepe in piazza San Pietro a Roma. Pregando ha alloggiato la bontà del Papa Emerito Benedetto XVI, deceduto nella mattinata dell'ultimo giorno del 2022. La visita al presepe è ormai una tradizione per Papa Francesco dopo aver celebrato i Vespri e il Tedeum di fine anno. Papa Bergoglio presiderà giovedì la messa funebre di Benedetto XVI. I fedeli cattolici hanno reso omaggio al Papa Emerito nella città tedesca di Ratisbona, dove Ratzinger insegnò teologia per molti anni. Mi sono molto commossa quando ho saputo della notizia della morte del Papa Emerito Benedetto XVI, perché ai miei occhi era davvero un grande uomo. Ho sempre avuto molto rispetto e ammirazione per la sua conoscenza. Noi eravamo a Roma l'anno in cui divenne Papa, nell'aprile 2005. Un bel ricordo. E' stata una grande sorpresa, una grande gioia, un grande orgoglio che un Papa, lo è stato per quasi otto anni, sia arrivato dalla Baviera e che abbia lavorato per molti anni a Ratisbona. C'eravamo anche noi durante la sua visita nel settembre 2006 qui a Bismarckplatz e lo abbiamo applaudito. Am Bismarckplatz abbiamo zugejubeltato. Le campane hanno suonato nelle chiese di Al-Tötting, che si trova vicino al paese natale di Papa Benedetto XVI. Sotto la sua statua si è svolta una veglia durante la quale i fedeli hanno acceso le candele.